E con gioia che ci ritroviamo ancora una volta insieme per meditare la parola di Dio e scoprire ancora di più quanto è grande la sua bontà. Leggeremo nell'Evangelo di Luca al capitolo 15 dal verso 8 al verso 10. Oppure qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una non accende un lume e non la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine dicendo rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico ve gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La moneta è andata persa dopo essere caduta così l'uomo si è perso dopo la caduta di Adamo ed Eva che disubbidendo hanno peccato contro il Dio. Dio aveva creato l'uomo per la sua gloria dice la Bibbia Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò per avere comunione con lui ma quando l'uomo peccò si allontanò da Dio perse la comunione la presenza del Signore. Divenne un'anima lontana da Dio senza speranza il suo peccato causò questa separazione come leggiamo nel libro del profeta Isaia le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio i vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto ma il figlio di Dio il Signore Gesù Cristo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Per ritrovare questa dramma viene acceso un lume era necessario perché l'illuminazione in quelle case rurali era scarsissima la maggior parte di queste case non aveva una finestra alcune avevano una piccola finestra circolare di circa 45 50 centimetri e il lume ci parla della luce dell'Evangelo l'Evangelo che mette in risalto l'opera di Cristo che è venuto per essere luce nel mondo la luce dice Luca al capitolo 2 da illuminare le genti questa luce ancora oggi risplende per l'opera dello Spirito Santo Gesù disse egli prenderà del mio e ve lo annunzierà egli vi guiderà in tutta la verità non solo viene acceso il lume ma la casa viene spazzata era importante svolgere quest'altro atto in quei pavimenti di quel tempo molto sporchi fatti in terra battuta coperta di canne di giunchi secchi ramoscelli di palma cercare una moneta in un pavimento del genere era proprio come cercare lago nel pagliaio e quindi la luce della lambada nella casa buia non era sufficiente e Dio ricerca l'uomo in questo mondo così sporco e pieno di peccato la dramma viene ricercata e ritrovata in mezzo alla spazzatura questo ci dice almeno due cose molto importanti la prima che noi eravamo spazzatura eravamo da scartare eravamo così sudici immersi nei nostri peccati ma siamo stati lavati dice Pietro con il prezioso sangue di Cristo lui si è abbassato fino a cercare nella spazzatura per poterci ritrovare recuperare si è sporcato le mani quando è grande la bontà divina l'amore del Signore Gesù nei nostri confronti e alla fine troviamo ancora quest'azione specificata dalle parole cerca con cura cercare con cura significa cercare diligentemente attentamente con uno sforzo particolare senza trascurare nulla in ogni angolo della stanza e questo ci dà proprio l'idea di una ricerca minuziosa in questi sforzi che sono fatti in maniera così decisa ma anche paziente in questo lavoro così accurato e descritta l'opera di Dio nei confronti dei peccatori perduti e qui c'è l'azione dello Spirito Santo che dice la parola del Signore è stato mandato per convincere l'uomo di peccato e Giovanni riporta nel suo evangelo quando sarà venuto convincerà il mondo quando al peccato c'è anche la pazienza di Dio nell'attesa e la ritroviamo in modo particolare nelle parole riportate nel libro dell'Apocalisse io sto alla porta e picchio Dio fa tutto questo per noi finché non la ritrova Dio fa tutto ciò che è necessario per salvare i peccatori Egli ci ama di un amore eterno ci fornisce una salvezza perfetta per mezzo del suo figlio Gesù Cristo che ha pagato il prezzo del nostro riscatto ecco perché Pietro scrive nella sua prima lettera non con cose corruttibili con argento con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto ne macchia quando è grande la bontà di Dio Egli cerca ogni uomo per donargli salvezza Egli è pronto a illuminare i nostri cuori affinché possiamo vedere Cristo che è morto sulla croce per caricarsi di ogni nostro peccato non ha guardato alla nostra bassezza la nostra pochezza al nostro sudiciume Gesù ha dato la sua vita per noi Dio non si stancherà mai di cercare di catturare la nostra attenzione di farci raggiungere il suo prezioso messaggio lo Spirito Santo opererà nei nostri cuori ci convincerà di peccato e noi potremo dare il nostro cuore a Gesù gustare quando il Signore è buono realizzare questa meravigliosa salvezza per la salvezza delle anime nostre per il dono della vita eterna grazie a tutti